Mariano Di Vaio, il fashion blogger ed ex mentor di Selfie e le cose cambiano, ha lanciato il suo primo singolo. Un esordio che per certi versi è spezzato, arrivato a sorpresa e che segue l'esempio di altri debutti imprivedibili, come quello di Enrico Papi che ha lanciato Musica. Da questo 9 maggio, è quindi disponibile in digitale e in streaming White For Me, singolo dance realizzato in collaborazione con Jonathan Catalano. È stato un regalo che Mariano Di Vaio si è fatto per il suo compleanno, ma in un certo senso è anche un regalo per i tantissimi fan che lo seguono in tutte le sue iniziative. Il videoclip è diretto di Marco Iconizzi Ferrero, vecchia conoscenza del mondo del gossip, fu l'amico stretto di Aurora Ramazzotti, tra i primi ad essere accostato a lei come possibile fidanzato. Chi se ne frega.